Ciao ragazzi, pensavate che eravate liberati del mister Monaco? Sbagliato, sono qui, sono tornato. Purtroppo stiamo vivendo un brutto periodo adesso, però c'è da stare a casa, c'è da stare tranquilli e sereni che tutto andrà a bene. Avevo pensato una cosa, visto che comunque l'attività calcistica è sospesa e insomma non possiamo andare al campo a divertirci, ad allenarci. Avevo pensato di fare uno smart working con dei video, semplici esercizi che facciamo quotidianamente tutti i giorni, magari per rimanere allenati e per non tenere questa testa chissà dove a destra e a sinistra. Perché ricordatevi sempre che per giocare a pallone ci vuole il fisico, ma ci vuole sempre la testa. Quindi io volevo spronarvi a fare gli stessi esercizi che faccio io, in modo da non perdere tempo, da non restare fermi e così quando riprenderemo l'attività nella scuola calcio saremo già pronti, belli e pimpanti. Grazie